Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per incidente, due chilometri di coda tra il Bivio per la 11 e Firenze in Fruneta. Per traffico intenso, code tra Firenze Sud e Incisa e Reggello e rallentamenti tra Calenzano e Firenze Scandici. In direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio per la variante di Varico. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola e tra Prato Est e il Bivio per la 1. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fibili, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Lastra, Assigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Firenze è chiuso in uscita lo svincolo di Poggio Bonzi Sud per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!